Viviamo in un gran bel periodino, uno di quei periodini che la mattina ti svegli e pensi Che bella botta di culo che ci ho avuto a vivere in un periodo come questo Le guerre, i disastri ambientali, la terza guerra mondiale che incombe Perché? Niente panico Abbiamo deciso io, Marco Vicari, coautore, compagno di giochi E Joelle Dix, altro compagno di giochi, regista Abbiamo deciso di chiamare questo gioco, questo monologo Niente panico, perché in realtà di panico ce n'è parecchio in giro E ci sono seri motivi per avercelo Io e Joelle Dix ci siamo conosciuti dall'urologo Durante il controllo periodico della prostata Da lì siamo diventati amici Per me è una festa arrivare in teatro e provare con lui Perché è un uomo imprevedibile, è un uomo molto creativo E il suo miglior pregio è la puntualità Cioè lui ti dice arrivo alle 4 e arriva alle 5, ma arriva alle 5 in punto L'anticiclone Nerone incendia l'Italia Bambini, state attenti, camminate bassi Che c'è la vampata africana Dov'è il nonno? In terra un occhietto di cenere fumante Riconosco la dentiera, è il nonno Ridere di se stessi e delle cose che accadono È una specie di medicina si sa, la comicità è un farmaco molto utile nei momenti di panico Perché ridere fa bene alla salute Le cose ahimè non cambiano Ma la sera si dorme un po' meglio Grazie a tutti